questo è uno di quei prodotti che definirei tanto semplici quanto utili nella vita quotidiana si tratta di astrolux p100 la più piccola e compatta power station che io abbia mai trovato in commercio si può trasportare praticamente ovunque e se ora vi state chiedendo che cos'è una power station beh si tratta di una sorta di mega power bank che si permette di ricaricare il vostro smartphone o tablet grazie alle usb poste nella parte frontale ma che al suo interno integra un inverter e quindi una presa di corrente a c universale a cui poter collegare praticamente qualsiasi cosa dal fondo per asciugarci i capelli possiamo collegarci persino un televisore ma possiamo anche alimentare un portatile un laptop scarico per oltre due ore indica la casa madre e se a tutto ciò aggiungiamo la sempre utile lampada frontale regolabile su quattro intensità beh di che cosa stiamo parlando è un prodotto da acquistare subito anche perché costa davvero poco le power station non sono di certo una novità possiamo definirle delle prese di corrente portatili ma io non ho mai visto prima una power station così compatta e funzionale la sto utilizzando da praticamente un mese l'avete vista anche in qualche mia storia su instagram ed è un prodotto che nella sua semplicità mi ha davvero conquistato anche perché non costa tanto anzi cosa davvero poco per la qualità che offre infatti lei l'ho pagata all'incirca 80 euro acquistandola su banggood euro più euro o meno comunque vi lascio il link coupon qui sotto in descrizione video e sul mio canale telegono facciate questi il sincato anch'esso qui sotto entrateci per questo prezzo secondo me ne vale davvero la pena per quali scopi beh io solitamente la lascio in auto per ricaricare qualsiasi dispositivo dall'aspirapolvere portatile allo smartphone quello che vogliamo perché le prese dell'auto sono abbastanza lente invece qui abbiamo la ricarica veloce ma è fondamentale direi in camper o in campeggio oltre a tante altre situazioni magari quando andiamo in una nuova casa un appartamento una baita di montagna ci portiamo sto coso e abbiamo qualche ora di corrente sempre in mano scendendo più nel dettaglio l'astrolux p100 è una power station da 30 ampere quindi 30 mila miliampere e 111 watt ora di potenza con nella parte frontale due prese usb a ricarica rapida per alimentare e ricaricare i vostri smartphone e tablet oltre a qualsiasi altro dispositivo usb abbiamo anche in uscita una usb type si anch'essa per alimentare una presa in cui andare a collegare magari l'accendisigari dell'auto per ricaricare qualche altro altra tipologia di dispositivo infine l'ingresso per ricaricare questa power station grazie al suo carico batterie compresa italiana c'è nella parte superiore un piccolo display che ci indica lo stato di carica residua le porte attualmente attive è il tasto ac per attivare proprio la presa di corrente quindi l'inverter interno la presa di corrente avevo già detto è universale quindi è comodissima in viaggio magari potete collegarci praticamente qualsiasi cosa ed è il vero punto forte di questo dispositivo abbiamo infine anche un piccolo faretto che al centro vede la presenza di un led attivabile tenendo premuto il tasto di illuminazione abbiamo anche ls e 4 intensità di illuminazione del faro led che alla massima intensità è davvero molto molto luminoso e grazie alla maniglia qui sopra che permette di trasportare facilmente la power station è molto comodo magari se dobbiamo affrontare un campeggio fuori buio beh la bella confezione ci dà anche qualche indicazione di massima sui possibili utilizzi di questa power station che dovrebbe garantirci fino a 20 ore di alimentazione per una lampada abbastanza potente 20 ore di alimentazione per un ventilatore ricarica completa di uno smartphone 13 volte lo stesso per i tablet due ore di alimentazione per un portatile scarico è persino 13 ricariche complete di un drone qui ci sono tutte le varie specifiche tecniche se volete darci un'occhiata comunque avevano già parlato poco fa e non c'è molto altro a dire in realtà questa è la astrolux p100 una piccola power station che personalmente trovo comodissima la uso praticamente sempre in auto perché ho decine di diavolerie elettroniche da ricaricare ogni volta ve la consiglio se state cercando una fonte di corrente di energia piccolina compatta facilmente trasportabile a tra l'altro lei è ricaricabile anche tramite pannelli solari acquistabili separatamente quindi tanta tanta roba se volete acquistare l'astrolux p100 vi lascio il suo link d'acquisto qui sotto in descrizioni video invece per eventuali coupon è entrata nel mio canale telegrama ufficiale tec vestir sincato anche se qui sotto e cercatela sicuramente troverete la migliore offerta a lei dedicata oltre a tanti altri prodotti bene amici direi che questo è davvero tutto ora però ditemi voi cosa ne pensate di astrolux p100 lo trovate un prodotto interessante oppure no parliamo insieme qui sotto nei commenti e per dubbio domande non esitate nel chiedere lasciando un bel commento io sono come sempre a vostra totale disposizione questo è davvero tutto io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate sempre qui su adx to tech alla prossima ciao ragazzi iscriviti al canale